Dove pensi o dove suggerisci che la vita inizi? È nell'utero? È quando vieni partorito? Quando entra l'anima nel corpo? Ora stai supponendo delle cose. L'ho sentito da vari... il mio apprendimento e condizionamento, come puoi chiamarlo. Parlo di te, me e delle persone qui. Ora porti un'altra persona chiamata anima. Usiamo la parola vita, perché la parola anima è pesantemente contaminata. Sai, le persone trovano anime gemelle... È molto chiaro. È molto, molto chiaro. Il tuo corpo ha bisogno di un compagno. La tua mente può aver bisogno di un compagno. Ma l'anima, se è assoluta, sicuramente non avrà bisogno di un compagno. Non è così. Ma così tante cose... chiamiamola vita. È una parola meno corrotta. Perché la vita non diventa coinvolta con il corpo così. Accade come un processo. Quando una donna o una madre concepisce... Due piccole cellule si uniscono. Poi diventano una polpetta, letteralmente. Affinché questa polpetta diventi una vita, è tra i 40 e 48 giorni dopo il concepimento che il processo vitale subentra. Non so quale sia l'opinione medica. Ci sono dottori qui? Ok. Ok. Va bene. Lo dico per mia esperienza personale. Sono 40-48 giorni. Quello è lo spazio in cui entri. Ci sono alcune vite che entrano dopo. Supponi... Questo è qualcosa che una donna o una madre potrebbe sentire se la formiamo un po'. Se vede che una vita è entrata oltre i 48 giorni, allora stai dando alla luce qualcuno di davvero speciale. Perché questa vita prenderà tempo per sistemarsi. Una vita fenomenale in arrivo. Hai sentito... Qualcuno vede la madre di Gautama e quest'uomo dice darei alla luce un essere fenomenale. Qualcuno guarda Yashoda e dice alla madre stai dando alla luce un essere fenomenale. Questo è semplicemente perché quando noti che dopo 48 giorni dal concepimento la vita non è ancora entrata ma entra un po' più tardi. Questo significa che aspetti che arrivi un essere fenomenale. Perché è così? Se vado nelle complessità ti porterà da qualche parte ma una vita normale entra tra i 40 e i 48 giorni. In seguito, per qualche ragione, dopo tutto il grembo non ità di produzione di questo corpo, per qualche ragione, se il corpo non si è formato in modo appropriato per quella vita o per qualsiasi vita, allora la vita sceglie di uscire prima di venire alla luce. Questo è un bambino nato morto o a volte per qualche compulsione una madre può scegliere di abortire il bambino. Questo è un altro tipo di cosa. Ma in queste cose il coinvolgimento con il corpo per questa vita incomincia davvero tra gli 84 e i 90 giorni circa. E' quando davvero la vita diventa coinvolta. Fino ad allora cerca, sta vedendo se questo è adatto, se questo grembo è il posto giusto. Non è una cosa consapevole. E' una tendenza inconscia. Sta vedendo se combacia per tendenze. La parola appropriata per questo è, tradizionalmente, le chiamiamo vasanas. A seconda della tua vasana, stai cercando un corpo appropriato. Quindi, anche se è parzialmente coinvolta, può uscire prima di 90 giorni. Prima, tra 84 e 90 giorni. La vita diventa coinvolta in modo appropriato. A partire da allora è un bambino vero e proprio. È una vita vera e propria. A partire da allora è un bambino vero e proprio. A partire da allora è un bambino vero e proprio. A partire da allora è un bambino vero e proprio.